Ti devi iscrivere Wow bro Per te se Feric racchasse seriamente Riusciva a mettere il master è molto sottovalutato Sì Se giochasse per vincere sì Bella lorx Feric farebbe il master tranquillamente Anche perchè il master lo fanno i fullesi Figurati uno come Feric Che il gioco action lo conosce Ok come stai Sirdedo Action so estremamente bene Fin troppo bene in questo periodo Infatti mi devo rendere un po' uncomfortable Adesso mi spacco il ginocchio Vamos Vamos Shen Intunar Andiamo We need to be good here We need to be good In tutto il tunnel Sto tutto spettinato Sto tutto un po' muzzo Devo Devo tenermi i capelli raga Ma sto aspettando che mi crescano Perchè devo farmi una specie di Di Una specie di mullet Più o meno E mi servono i capelli un po' più lunghi ancora Non mi va di tagliarli due volte nel giro di un mese Quindi avrò i capelli un po' così in questo periodo It doesn't matter però Ho avuto i dread che sembravo fucking sonic bro Appena fatti Quindi Nessun problema E' giusto che Sono anche stupito Perchè mi alzo E non ho tempo di aggiustarli Perchè faccio tardi Quindi come mi alzo Stanno dai Bene Stivo aggiustamento Che fa Ok ci siamo Emer svedese Non te l'ho chiesto Ci stanno dai Ma si no Schifo schifo non fanno In caso sono puliti Si vede Sonic del film bro Sonic del film Va bene Whatever Whatever Focus Ho ancora questo mal di gola Che mi porta dietro La fucking influenza australiana Ragazzi Che concerto questa roba Tomà Ma avete sentito Sergio Sottolineatura Bruscaglia Urla possentemente Deidos L'esame dell'altro giorno Grazie alla tua benedizione E' andato molto bene Ho preso 25 Invece qui si punta Al 737373737373737373 Bari E' normale Tomà Mettila Stupido Coglione Che testa di cazzo Ma Mi ha fatto strano Perché era anche uscito Ma poi oggi Non va al lavoro E' sabato Quindi non sapevo Dove fosse andato L'esame Vabbè Benvenuti alla famiglia Dei Dara Vai Cazzo gigante bro Meno uno Meno uno Meno uno bro Meno uno bro Wave is Decent Quasi vince Basta bro La mia Kali Non ha paura di nulla Brother Se c'è Se c'è Se dovessero mettermi Sai tipo Immagina Immagina La vita E' tipo E' tipo Warzone Una volta morto Devi andare nel gulag And you need to fight For your fucking life Se vuoi resuscitare Bro A Kali Datemi a Kali And I will fight For my fucking life Letteralmente bro Sono così tranquillo Quando gioco a Kali Da quanto questo champion L'ho giocato tanto E mi viene facile giocarlo Mi stanno lì Solo cube Solo cube Yep 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 Faccio fake Nella top Pensano che sia top Oh This is gonna be a juicy fucking double kill Dio porco Vai in Dio porco Andate in Stupidi coglioni Pensavo di vederlo Action Pensavo di vederli Action Close Flash Il paravento è stupendo Ma mi mancano i momenti Con Tommaso Sullo sfondo Che fai Trico Legge La chat Ma No Ok ho preso l'exp Non entra più in camera Quindi no problemo Perché stai Stando a andare in me Non posso guardare Guarda il pod Non so È capitata C'hanno dovilato Fucking pike bro Trash Ehi Dalva dismissing And she was bot I mean I wasted flash But that's it Ho preso il flash a send Magari se muore ora Senza flash God Grazie a tutti Ma you took my plant bro Sei full hp Porco dio 5 4 3 5 6 6 6 9 11 13 15 15 Bella madara Hello Hello Welcome back Brother Siamo a head in CS Contro Tristana Ragazzi Incredibile Incredibile Siamo a head in CS Contro Tristana To fucking Tristana Con a calibro È una solo kill È un flash burnato In bot Con un roam Ho preso anche un roam Siamo sopra in CS If you're not capping This guy I'm not sure What we're doing That's not called capping To be a king 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 Upi Graves Gragas Upi Gragas Ottimo punish del no flash L'editor switch era sempre con queste robe ragazzi Quindi vedrete a caso voi ogni volta le varie versioni di Deidara Questa versione fa questo Dio porco Iscrivete Bell bot She's playing into velvet of course Buon play team tolto Salto preso Careful bot Prendiamo il meliga da più gold del caster Let's be focused Let's stay focused And I guess she's diving Sanna Merda Questa ma la scopa se viene Metto il cazzo sta Sanna Frezzami questo cazzo Frezzami questo gran cazzo Stupida Sanna Andiamo dark seal bro We are mid lane You can stomp 91 CS a 11 minuti Into Tristana Più un roam That's perfect bro That's perfect Molto molto bene Non ci fate scream Vediamo Vedremo Forse si forse no Q al capodanno cinese Quindi non so se abbiamo un sostituto Se abbiamo scream o facciamo flex Orse fermo flex A little match the wave Basta no Ok 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 She managed to W in time What Entramo negli occhi Si bro They're always the same Zoning Bot è caduta We can win this game We can carry this game Non ci fate No 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 La Porco Dio, sti pings quanti sono. Ho trollato. Vabbè, I guess you can see the shadow. Ho giocato molto male questa. Perché l'ho giocata molto male. Avevo paura di mi barstarse con il Luden. Una hateata, roba così. L'ho giocata tipo super super safe. E non... Devo giocarla più col cazzo di fuori questa. Perché avevo shutdown anch'io. Non volevo perderlo. Volevo essere... Clean and safe. I need to base. Tristana is missing. Comunque è ottimo che l'abbia preso lui lo shutdown. E Merdinger ha usato il flash. Ora che ho protobelt posso andarli a cacare in testa davvero. We go this, we go that. Abbiamo un sweeper. Ottimo, andiamo a bot. NAR sta continuando a trollare, bro. I mean, it's actually close. Close anche il Gragas. Che va a night harvester. I just walked through, mate. Let's see what happens, mate. A breve, ragazzi, arrivano gli upgrade del PC, comunque. Fra tipo una settimana abbiamo 144 FPS. Fissi. Non più 90 quando va bene. Io ho uno shutdown, raga. C'è un ulted. Draghi's ours. Andiamo a Shadowflame. Shadowflame Zonia, questo game. Shadowflame Zonia, questo game. Che hai preso? La felice dello streamer quando arriva. Shut up, bro. Shut up. Shut up. Guardate a me se sono tantissimi. Se sono fissi, no. Non è un problema. Bella, fiume. Thank you, brother. Bella, bro. For giving up, Drake. Bella, bella. Welcome back. Alboel17 urla possentemente dei doto. Mi sembri il tipo di persona in grado di rispondere a domande super importanti. Ad esempio, qual è il senso della vita? È nato prima l'uovo o la gallina? È meglio un culo gelato o un gelato in culo? Le importanti domande dalla Twitch chat. Play sides properly. Adò con una flip mid. Sono difficili da ammazzare quei tipi. Tra Emerdinger che stunna, dodge a strano, senna, torrette di mezzo che mi parano le... E tutte queste robe è cringe. Emerdinger è cringe perché si piazza mille torrette addosso. Emerdinger will realize one day that he's running down, probably. Unlucky. Questo mi ha preso la top. Nice shutdown. Ha flashed out, ho scommetto. Pergatti in top, però. Io pio questa. Velvet la posso one shottare, ragazzi. Teniamo il focus up, teniamo il focus up. No, guys, don't fight. I'm the one with the gold. Però se sente FPS è tragica. No, ho fatto benissimo appena l'upgrade, ragazzi. No, non ce l'ho. Cioè mi viene, mi viene proprio il volto a stomaco a vedere... A vedere FPS così bassi. Per ora però... Facciamo quello che possiamo. È giocabile. È che mi viene il volto a stomaco. Mi viene la motion sickness, bro. No, no, ho cambiato tutto, bro, praticamente. Questo PC era da un bel po' che non... Ho detto, boh, faccio un upgrade come si deve. Ma la torre è inutile, ragazzi. Don't worry, don't fight. Questa mi dà un sacco di gold, invece. Con questa snowball. Questa snowball super hard. Abbiamo shadowflame. Abbiamo shadowflame. And I'm gonna be waiting here. Così di velvet. Bella grizzly. Thank you, brother. Thank you, brother. Grazie mille. Welcome back. Grazie per i due. Ciao Deido, ieri ho rinnovato l'abbonamento. Purtroppo per via dello studio non riesco a seguirti su Twitch, ma un salto per sostenere il miglior streamer di LOL è d'obbligo. Oh, thank you, brother. Questo vale ancora di più. Grazie mille, grazie mille. Questi rushano, rushano con Heimerdinger, raga. Ve l'ho pingato mille volte, ve l'ho pingato. I'm not sure if you guys wanna wake up. Ma loro la stanno trollando qua. Nice, 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 nice. Rusher, 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 rusher. Ho usato un flash per sbaglio, bro. Ho flashato per sbaglio, actually. Ho fatto fingerato perché stavo tiltando che non siamo tornati sul Nashor, bro. Ok, qui still can. It's fine Ho fatfingerato Ho letteralmente fatfingerato ragazzi Succede Succede anche i migliori Ok Ottimo Ottimo still Ottimo Doesn't matter La play era buona La mia visione della giocata era buona Che l'avrebbero lasciato Loro hanno trollato Noi ce l'aspettavamo Io l'avevo chiamato Ci siamo comportati bene Easy Molto molto bene Dado ma quando compi l'anita Il 7 settembre Il 7 settembre Drake Drake push alla side E mi metto in flank dalla side Emmerdinger must die Dopo Emmerdinger velvet Se riesco Più di Senna Molto più importante di Senna Senna sarà Sembrerà il target più Più giu easy Ma è il più inutile Missa W doppia E cringe Guys Why don't we have Control over the Drake Quando abbiamo beccato Con nascere Siamo qua prima How do we have zero control Prendo Shen qua Brutto lane Non sto giocando benissimo Oggi Dopo questo facciamo un altro game E poi andiamo subito sugli smurf They're not playing well Non sto giocando benissimo Nice Nice games Nice games Più rischiosi del dovuto Devo fixare la bot Ottimo ottimo Perché non giochi jacks Perché sono mid Lo giocheremo bro Quando servirà Per adesso Per adesso I need to match The Shen Actually I should have been top send Vediamo 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 No Oh my god Prakash is backing off We don't need to throw the game Sì Flash 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 7, 7, 3, 7, 7, 3, 7, 9, 99 Sì, cringe bike Chiudiamoci Zonia raga Chiudiamoci Zonia Prendiamoci Pozioni Alisir Abbiamo 10 stack scoso Possiamo chiuderci Mejai Mejai è really fucking good per un motivo Lei sta andando un Magic Resist Adesso vi spiego Il Mejai conta come item leggendario ragazzi Quindi vi da il buff della Magic Pen Quindi se ci chiudiamo il Mejai Per pochissimi gold Quindi 1250 Ci chiudiamo anche 5 di Magic Pen Che cacare non fa Nel senso È molto molto forte il Mejai In realtà Se hai 10 stacks già Ho Per pochissimi Grazie. Questo diventerà un... Un Rabadon adesso. Holy shit. Holy shit. Dopo questo andiamo sullo Smartfraga. Non me la sento calda. 70 fps comunque. Mamma mia. E' scomodissimo giocare a cali a 70 fps, ragazzi. Veramente scomodo. Chi non ha mai provato i 144 con 144 Hz sui monitor non può capire che... Fare il downgrade è tipo... E' tipo... Non lo so, avere il cazzo grosso tutta la vita e poi una certa te lo taglierò in due. Ne hai solo metà. E questo game ormai non lo sono bollato tutti. GGWP, ragazzi. 10-0. 10-0, raga. Praticamente in 1v1. Non abbiamo... Praticamente in 1v1. Perfect game. Infatti no, ma il monitor è 144, ma il mio PC non regge i... Più di 70 fps su LOL. Ma tranquilli, arriva l'upgrade, ragazzi. Arriva l'upgrade. No problem. Il 25 arriva al case. Che è l'ultimo pezzo che arriva. Non è un'ultimo 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 pezzo che arriva.